Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Non ti spaventi? No The Conjuring, bello eh Eh già questa roba di spiriti e roba è in tutta ansia Ah si, vabbè ma non è un problema, io sono di solito fino all'ora e rido perché mi fa ridere Di mangiare? No, di cosa? Vittorietta, siamo in live! Possiamo contenersi almeno qua? Ma che signore? Non ho niente io Si possono dire queste cose? Si possono dire, si possono dire È stato un piacere raga Dov'è? Vittorietta Vittorietta Perché sono piccola anche se non serviva Il finto ruvino Il Dio ti benedica, il vero Pietro Grazie, è dubito ma grazie Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima live di cucina magari Ciao Certo, certo, grazie davvero Scusate Arte E no Ma no, ti hai sentito una lezione proprio ficcata dentro Porca vacca, non riesco a sparire per un secondo Berta, attuarti un po', no raga vi prego l'affetto Guarda cosa che non c'è musica qua Si, comunque posso dire che come live compleanno veramente triste Triste? Cioè cosa ha fatto tutto il giorno? Cosa ha detto? Tu lo sai? Sai, secondo me ha parlato degli alieni Adesso metto qualcosa che faccia muovere il culo a me Riesci ad alzarmelo? Un pochino O non si alza? Eh non si alza Ma perché? Eh perché è rotta questa sedia Non l'ho rotta io E sarebbe ora di... non voglio sapere come l'hai rotta Cosa c'è? Un pochino è una rotta Un pochino è una rotta Un pochino è una rotta Si ma anche eh come... ma fe... No Dai No 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 Siete già stati? Baciatemi Penso Ehm... Pochino! Dove va' essere oggi la fine di questa sedia Ma se ti siedi adesso piano con calma uhan Piano! Piano! Attenzione c'è dueanki e che le dita veramente sono completamente attaccate fra di loro voglio che proviate a staccarla e vedrete che sarà sempre più difficile magari inizieranno a staccarti leggermente poi diventerà cento volte più forte e si riattaccheranno fra di loro e sarà cento volte più difficile rispetto a prima quando vi sentite in quella condizione in quella condizione di non riuscire più a staccare le mani provate a staccarle e vedrete che non riuscirete a staccarle tu non ce la fai giusto? ci stai provando davvero? e fa no eccomi no, guarda cosa è successo 20 minuti fa in autobus no, così tanto però non era mai successo cosa? è arrivato uno uno lo fa no che mi sembra io sono possiamo fare una foto? io così, con me e con lei farò con tutte e due io ho beccato insieme oggi il giorno più bello della mia vita io ho la fotoletta in bocca così dai, canta eh, facciaci una nota che c'è una sto tipo volando grazie ragazzi prego è un duro lavoro ma proprio dovevo farlo grazie, 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 grazie prego prego assolutamente sta tutta nasa di papaya con il mio cash farà la locca bello mi piace andai bello, molto bello formatone nuovo allora, domanda numero uno allora, per un miliardo di... anzi no, per centomila euro ok, state fermi bevete insieme, ferme bevete? no oddio cristo adesso devi fare la ribelle si, hai rotto il cazzo sempre a dare ordine agli altri ma è per il gioco deficiente dai, vai avanti fai sta cosa ma è, lo faresti per solito non pensi mai quando... è l'istruzione ora si a di a a un ukulele un ukulele dovremmo portarla a ballare un ukulele ti prego e se ne voglia cre viene la festa ok ragazzi benvenuti qua in DJ7 bella una bomba vero è davvero una bomba di carbonara ragazzi adesso commentatemi un attimo la carbonara voi dite quello che volete com'è? sembra buona si, si sembra buona è molto buona non chiedetemi che pasta è no non dovete avere commenti sulla carbonara questa qua è tua dai, se vai per il carino la tua è tua ok allora, mentre ho mangiato soffrisco della panica dai, tolmi impiacchiamolo qua allora scherzo dai scherzo a te lo mi hai fatto anusare? e così te la faccio no vabbè ma sei tu che non mi taghi io sto cercando di rapportare con te quindi non ci manca lo step della profumaia tu non hai capito il cazzo è proprio qua casca l'asinello perché tu sei così solo perché io non ti do attenzione nel momento in cui ti do attenzione tu io le donne le conosco come le mie tasche nonostante mi sembra guarda che se devo iniziare a giocare io amore mio se vuoi piangere e le occhiano spottare il microfono che si rompe certo se inizio a giocare seriamente io amore staccheresti la live credimi pure via poi scusi mi arriva questo vuole che gli la servo sul piatto d'argento così che palle cioè un po' bisogna farlo non usare un pochino se no dopo non tra gusti nemmeno sti uomini provando ok tra loro si ok vai tre dite voi il via tre due uno vai potendo è potente matilda se perdi anche questa secondo me secondo me dai matilda definizione 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 matilda definizione 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 dai che va giù però ce l'ha ce l'ha ce l'ha brava brava è fortissima però anche tu avevi una bella resistenza resisto un sacco però non c'ho la forza brava presenti il sogno quello che hai fatto che io sono passato così grande raga l'aperta mi fa morire ma perché dovremmo odiarci no ma ce l'ha con questa adoro i pasticcini ma che carina perché lei mi ha portato il prosecco 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 no è mezzanotte io l'ho costretto a beada per l'aprima lei mi ha portato il prosecco ciao stronzi che carina cavolo mi ha fatto i pasticcini vedi le donne in questo sono più carine voi vi sareste presentati con niente tra l'altro qual è il mio compleanno? il 14 giugno no 12 però aspetta però ce l'ha quasi carino che culo culo veramente ma senti un attimo a parte che stavo facendo dei gin tonic poi c'è il tuo vodka per vedere direi come buona no no ma a te piace la vodka aspetta no vabbè fa l'idea fa l'idea guarda partami a tutti cazzo ho capito ti va bene una pizza sei caccato eh mi son caccato si proviamo però io se vado qui guarda adesso mi sei vedrà solo la fronte 1 2 3 fa vedere no va che cadi per come mi sono spostata ciao 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 ti posso? si minchia è passato un uccello è partito è passato un tipo così dalla finestra no veramente non è vero ma sei tu che non sei capace ma minchia pensavo di più nonna mia ma sei più potente vabbè ma minchia ma pensavo fossi forte eh no minchia è una scanna perca vacca scusa fa sentire vabbè guarda ma come fai sono una checca salutiamo checobomba che ci guarda sempre da lassù oh minchia è umiliata eh sì